su campione vi spiegherò l'avvio dello sprone fino alla decimo giro perché poi la lavorazione è ripetitiva in quanto andremo a ripetere alternando il nono e il decimo fino a raggiungere l'altezza del sottomanica e anche per tutta la parte del tronco è uno sprone tondo io ho avviato con una circonferenza abbastanza ampia quindi la scollatura è molto pronunciata sono circa 75 76 centimetri ho fatto un avvio a moduli semplicemente lavorando per il primo modulo 4 catenelle che ho chiuso sulla prima catenella con una maglia alta e di questi moduli ne ho lavorati 50 dal secondo modulo ho lavorato 3 catenelle che ho chiuso sempre sull'incrocio della maglia alta precedente e questo è il nostro avvio vi faccio vedere praticamente questo è un avvio che io ho già usato in altre mie lavorazioni che trovate sul canale per la grey pearl e la canotta sherry andiamo ad effettuare l'avvio cappietto iniziale e andiamo a lavorare 4 catenelle per il primo modulo 1 2 3 e 4 carico il filo vado sulla prima catenella che ho lavorato estraggo l'asola e chiudo la mia maglia alta per il secondo modulo e tutti quelli successivi vado a lavorare 3 catenelle carico il filo vado a prendere le due asoline dell'incrocio della chiusura della maglia alta estraggo e chiudo la mia asola e come vi dicevo per la misura che io ho scelto ho lavorato 50 moduli io continuo lavorando ancora qualche modulo e poi vi faccio vedere la chiusura e il lavoro la lavorazione dei giri successivi cosa importante per questa lavorazione i moduli devono essere pari inoltre se volete ridurre o aumentare ulteriormente la scollatura fatelo aumentando o diminuendo di due moduli questo perché lo sprone ha una lavorazione conseguenziale ossia la prima sequenza è quella sulla quale verrà calcolata la seconda e poiché la seconda si sviluppa su due moduli di partenza ecco perché dovete aumentare o diminuire sempre di due moduli ho lavorato dieci moduli per il mio campione e li andiamo a chiudere sul primo modulo con un punto bassissimo raddrizziamo i moduli in modo da non farli girare vado nella prima catenella iniziale e mi aggancio al primo modulo con un punto bassissimo e questo è il nostro avvio una catenella entro al centro del primo modulo e lavoro un punto bassissimo andremo a lavorare in ogni modulo tre punti alti il primo punto alto che sarà anche il punto di chiusura giro lo vado a lavorare con la maglia allungata ritorta allungo un pochino l'asola faccio una torsione verso il dietro vado a pescare il filo lo porto sul davanti vedete che ho due asoline sull'uncinetto carico di nuovo il filo e chiudo le due asoline carico di nuovo rientro nell'archetto e lavoro le altre due maglie alte mancanti e continuo per tutto il giro lavorando tre punti alti all'interno di ogni archetto che si è venuto a formare con la lavorazione dei moduli carico il filo vado nell'archetto successivo e lavoro i miei tre punti alti dopo aver lavorato gli ultimi tre punti alti nell'ultimo archetto andiamo a chiudere il giro sulla maglia allungata ritorta che abbiamo lavorato prendendo le due asoline superiori che la compongono vedete la maglia queste due asoline noi entrammo in tutte e due le asoline e andiamo a chiudere il nostro giro con un punto bassissimo questo che abbiamo appena terminato è il giro di avvio che noi non conteremo ai fini della lavorazione quindi partiamo adesso con il primo giro vado a lavorare una catenella entro nel primo punto che è lo stesso in cui abbiamo chiuso il giro e vado a lavorare un punto basso 6 catenelle per l'archetto 1 2 3 4 5 e 6 lascio quattro punti di base 1 2 3 e 4 nel quinto vado a lavorare un punto basso e continuo con 6 catenelle per l'archetto 1 2 3 4 5 e 6 lascio quattro punti di base 1 2 3 e 4 nel quinto vado a chiudere con un punto basso e continuo per tutto il giro sono alla fine del giro e andiamo a lavorare l'ultimo archetto in questo modo vedete che io ho esattamente i quattro punti di base da lasciare questa è una sequenza studiata e se lavorate in modo corretto non c'è margine di errore vado a lavorare due catenelle carico due volte il filo entro nella maglia bassa iniziale e vado a chiudere un punto alto doppio per il mio ultimo archetto vedete che siamo già al centro dell'archetto stesso dal quale ripartiremo per il secondo giro nel secondo giro andremo a lavorare con delle maglie alte allungate e lo faremo in questo modo per la prima maglia di inizio giro lavoriamo una catenella allunghiamo leggermente il filo facciamo una torsione verso il dietro prendiamo il filo lo portiamo sul davanti carichiamo e andiamo a chiudere le due asoline carico di nuovo il filo rientro nell'archetto e vado a lavorare la seconda maglia allungata caricando il filo chiudo prima una solina carico il filo e chiudo le restanti asoline carico il filo rientro nell'archetto e strago carico il filo chiudo una solina carico il filo chiudo due carico il filo chiudo due e abbiamo lavorato il primo blocco di tre maglie alte allungate per il nostro punto ventaglio nell'archetto successivo andiamo a lavorare semplicemente una maglia bassa passiamo all'archetto successivo carichiamo il filo e andiamo a lavorare tre punti a tenete una tensione del filo molto morbida senza tirare eccessivamente altrimenti il lavoro tende a incurvarsi lavorato il primo blocco faccio due catenelle di separazione carico il filo rientro nello stesso archetto e lavoro altre tre maglie alte allungate per chiudere il punto ventagli che sarà quello di lavorazione per tutto questo giro vado nell'archetto successivo e lavoro il punto basso vado nell'archetto successivo e ricomincio la lavorazione del punto ventagli tra un blocco e l'altro abbiamo solo la maglia bassa senza catenelle di separazione io continuo poi vi faccio vedere come chiudere il giro sono alla fine del giro ho lavorato la maglia bassa e vado a completare il blocco iniziale carico il filo entro nell'archetto e lavoro le tre maglie alte allungate manganti 1 2 e 3 per lo spazio dell'archetto centrale andiamo a lavorare semplicemente una maglia alta quindi carico il filo vado sulla maglia iniziale che la maglia allungata ritorta prendo le due asoline superiori che la compongono e chiudo la mia maglia alta per dare spazio all'archetto tra i due blocchi di maglia alta da qui ripartiremo per il terzo giro lavorando una catenella entriamo nell'archetto appena concluso e lavoriamo un punto basso 4 catenelle 1 2 3 e 4 rientriamo nell'archetto stesso e lavoriamo un altro punto basso a chiudere l'archetto 10 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 saltiamo tutto l'archetto che abbiamo sotto dove la maglia bassa andiamo nell'archetto tra i due gruppi successivi di maglia e andiamo a lavorare un punto basso 4 catenelle rientriamo al centro del gruppo di maglie e chiudiamo l'archetto con un punto basso in questo giro vedete che abbiamo due archetti differenti uno di quattro catenelle e due maglie basse tra il ventaglio e uno di 10 catenelle tra un ventaglio e l'altro io continuo e poi vi faccio vedere la chiusura giro sono a fine giro e l'ultimo archetto che andremo a lavorare è quello di 10 catenelle lavoriamo le 10 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 andiamo sulla prima maglia bassa dell'archetto iniziale di 4 catenelle e chiudiamo il giro con un punto bassissimo il giro successivo lo andremo ad iniziare dal centro dell'archetto di 4 catenelle entro nell'archetto e lavoro un punto bassissimo ripartiamo con una maglia allungata ritorta quindi lavoro una catenella allungo leggermente il filo faccio una torsione vado sul dietro pesco il filo lo porto sul davanti carico il filo e chiudo le due a soli carico di nuovo il filo e vado a lavorare altre due maglie allungate sempre nell'archetto quindi una e due due catenelle di separazione una e due un punto basso nell'archetto di 10 catenelle 2 catenelle di separazione carico il filo tre punti allungati nell'archetto di quattro catenelle 1 2 e 3 3 catenelle di separazione questa volta altre tre maglie allungate sempre nell'archetto di quattro catenelle quindi carico il filo rientro nell'archetto e vado a lavorare le maglie mancanti 1 2 e 3 e questa è la sequenza di lavorazione per tutto questo giro tra i due gruppi di maglie alti allungate prima della maglia bassa e dopo andremo a lavorare due catenelle di separazione in questo modo fatto il nostro ventaglio 2 catenelle di separazione punto basso nell'archetto di 10 catenelle 2 catenelle di separazione e ricominciamo con i ventagli a maglia alta allungata nell'archetto di 4 io continuo e poi vi faccio vedere la chiusura del giro sono al termine del giro ho già lavorato le due catenelle la maglia bassa e le due catenelle carico il filo e vado a lavorare le tre maglie allungate mancanti per chiudere il blocco iniziale quindi entro nell'archetto iniziale di quattro catenelle e lavoro le tre maglie allungate mancanti una due e tre per le tre catenelle di separazione andiamo a lavorare in questo modo e quindi chiudiamo anche il giro lavoro una catenella carico il filo vado nella maglia allungata iniziale prendo sempre le due asoline superiori si stringe una parte in cui entra ecco qua estraiamo il filo e chiudiamo la nostra maglia alta che va a dare lo spazio al ventaglio iniziale il quinto giro è un giro tutto ad archetti e lo lavoriamo in questo modo una catenella rientriamo nell'archetto che abbiamo chiuso con la maglia alta e lavoriamo un punto basso 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 andiamo nell'archetto di 2 catenelle tra la maglia bassa le ultime maglie allungate e lavoriamo un punto basso 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 un punto basso nell'archetto dopo la maglia 6 catenelle 6 catenelle 1 punto basso al centro del gruppo di maglie allungate vedete che gli archetti li stiamo lavorando in tutti gli spazi disponibili e tra il gruppo di maglie allungate e prima e dopo la maglia bassa ogni archetto è composto da 6 catenelle sono al termine del giro vado a lavorare l'ultimo archetto con le 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 e chiudiamo il giro sulla maglia bassa iniziale con un punto bassissimo e ripartiremo dal archetto successivo lavoro una catenella entro nell'archetto e chiudo con un punto bassissimo ripartiremo da qui lavorando cinque punti allungati per ogni archetto disponibile il primo punto del giro lo lavoriamo in questo modo una catenella allungo la solina faccio una torsione verso il dietro vado a pescare il filo lo porto sul davanti carico il filo e chiudo e due a solini carico il filo e vado a lavorare nell'archetto le quattro maglie allungate e mancanti quindi questa è la seconda la terza la quarta e la quinta ogni blocco è composto da cinque maglie allungate passo l'archetto successivo e vado a lavorare altre cinque maglie allungate carico il filo dentro nell'archetto e lavoro la prima lavoro la seconda lavoro la terza la quarta e la quinta e continuo in questo modo per tutto il giro questo è il giro di assestamento sul quale poi andremo a lavorare la sequenza successiva ho terminato il giro che lo vado a chiudere sulla prima maglia iniziale con un punto bassissimo e siamo pronti per iniziare la seconda sequenza la seconda sequenza andremo a lavorare quattro giri gli ultimi due in ordine cronologico il nono e il dieci il decimo saranno quelli che poi andremo a ripetere per tutto il nostro lavoro fino alla lunghezza che abbiamo stabilito per il primo giro della seconda sequenza che corrisponde al settimo in ordine cronologico partiamo in questo modo diamo una catenella andiamo sotto al punto che abbiamo chiuso prima e lavoriamo un punto basso diamo 6 catenelle per lo spazio 1 2 3 4 5 e 6 saltiamo tutto il gruppo di maglia andiamo nello spazio che c'è tra un gruppo e l'altro e lavoriamo il punto basso per chiudere l'archetto e questa è tutta la sequenza di ripetizione per questo giro un archetto di 6 catenelle e un punto basso tra un gruppo di maglia e l'altra del giro sottostante sono a fine giro e andiamo a lavorare l'ultimo archetto di 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 vado nella maglia bassa iniziale e chiudo con un punto bassissimo e da qui ricominciamo per il giro successivo maglia allungata ritorta vado sul dietro pesco il filo lo porto sul davanti e chiudo le due asoline 2 catenelle di separazione per lo spazio carico il filo vado nell'archetto e lavoro un punto alto 2 catenelle di separazione carico il filo vado sulla maglia bassa tra i due archetti e lavoro un punto alto 2 catenelle di separazione carico il filo vado nell'archetto e lavoro un punto alto e continuo in questo modo per tutto il giro lavorando un giro di punto rete di una maglia alta e 2 catenelle per tutti gli archetti una maglia nell'archetto una maglia sulla maglia bassa vado a lavorare l'ultimo quadratino quindi do le due catenelle di separazione e vado a chiudere con un punto bassissimo sulla maglia allungata iniziale prendendo sempre le due asoline chiudo con un punto bassissimo e ripartiamo esattamente da qui maglia allungata vado sul dietro pesco il filo lo porto sul davanti e chiudo le due asoline e andiamo a lavorare lo il nono giro appunto ventagli alternati per il nono giro lavoriamo dopo l'inizio giro una catenella una maglia alta sulla maglia che chiude il primo quadretto due catenelle di separazione carica il filo rientriamo sempre nel punto in lavorazione e lavoriamo altre tre maglie alte e andiamo a chiudere il primo ventaglio carichiamo il filo andiamo sulla maglia successiva del quadretto dopo e chiudiamo la sequenza con un punto alto vi faccio rivedere ripartiamo con una catenella carichiamo il filo vado nella maglia successiva del quadretto dopo e lavoro un punto alto due catenelle di separazione carico il filo sempre nello stesso punto vado a lavorare tre punti alti per chiudere il ventaglio carico il filo vado sul punto successivo e lavoro una maglia alta e questa è la sequenza di ripetizione per questo nono giro ho terminato il giro ho lavorato le ultime tre maglie alte per chiudere il ventaglio vado sulla maglia allungata iniziale e chiude il giro con un punto bassissimo ricominciamo da qui e andiamo a lavorare il decimo giro e invertendo la lavorazione maglia allungata per inizio l'inizio giro e adesso andiamo a lavorare la parte centrale cioè il ventaglio al contrario quindi andremo a lavorare le tre maglie alte carico il filo vado al centro del ventaglio e lavoro le tre maglie alte due catenelle di separazione tra le tre maglie la maglia singola quindi carico il filo rientro nello spazio e lavoro la maglia singola una catenella di separazione carico il filo e vado a chiudere il ventaglio sulla maglia alta seguente e abbiamo invertito la lavorazione dei ventagli vi faccio rivedere carico il filo vado al centro del ventaglio e lavoro le tre maglie alte una due e tre tra la maglia che chiude il ventaglio e le tre maglie alte non c'è catenella di separazione due catenelle di separazione per lo spazio del ventaglio carico il filo rientro all'interno dello spazio e lavoro la maglia singola questa tra la maglia singola e la maglia di chiusura del blocco abbiamo una catenella di separazione carico il filo e vado a chiudere la sequenza e continuo per tutto il giro sono al termine del giro e lo andiamo a chiudere sulla maglia allungata con un punto bassissimo e con il decimo giro abbiamo concluso la lavorazione del punto per la seconda sequenza da adesso in poi continueremo alternando il nono e il decimo giro